Ciao a tutti ragazzi e oggi siamo tornati su Dream Defense Ragazzi hanno fatto l'aggiornamento di Natale e hanno messo una cosa bellissima Hanno messo la ricerca che praticamente è il coso di Natale Dove se facciamo queste cose ci da un pezzo, un frammento della skin natalizia ragazzi E quando li avremo tutti insetti, i frammenti potremo prenderci la skin di Babbo Orso Sarebbe davvero bello avere la skin di Babbo Orso Quindi ragazzi sono riuscito magicamente ad avere un po' di soldi e fare un po' di soldi E ora ragazzi andiamo a giocare le partite Questa ragazzi non eravamo riusciti a farla ma come vedete ora siamo molto più forti E riusciremo a vincere Almeno credo Il mio record è stato durato fino ai 10 secondi e poi sono morto Peccato ragazzi soltanto perché mi mancava davvero poco Devo resistere un minuto e 10 secondi Oddio 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 che cavolo è quello Partiamo male Oddio Oddio Impossible It's very very impossible Mandiamo il gelato ok 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 Aaaaaah Un casino Oddio 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 E' un casino Non ce l'ha fan la lampada ad aiutarmi qua Ok distruggiamo distruggiamo tutto finch pak si può Iiuto Quanto manca? 17 secondi Manca pochissimo No, 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 no 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sì Ce l'abbiamo fatta ragazzi Questa era davvero una cosa Un parto era a suo livello Mamma mia Vediamo cosa ci dà qua dentro Almeno cose soddisfacenti 460 money, 650 money E infine quasi 1000 money E ora hanno messo anche questa cosa Che alla fine del livello ti fanno vedere Quello che hai trovato nel baule Ok Ci mancano pochi livelli all'episodio 3 Scusate ragazzi se in questo Tempo non si è sentito molto la musica Ma avevo il volume spento Non me ne ero accorto Comunque adesso ragazzi Aspettate che facciamo rifornimento Sta comprando da solo Ora però ne prendo 91 Perché c'ho paura Nell'ultimo livello li ho usati tutti subito Praticamente Oh meno male non ci sono le scimmie Però ci sblocca e l'acchiappa sogno Vediamo che cosa faremo in questo livello Ok ragazzi ci siamo Spendiamo tutto Ok stanno E per adesso si può controllare la cosa Ok Ok Già ho arrivato a finale Va bene Ok Ma quanti cavolo siete E ce l'abbiamo fatta Abbiamo vinto anche questa partita Oh abbiamo sbloccato l'acchiappa sogni Raggruppa grandi gruppi di nemici Ok Bello deve essere questo acchiappa sogni Apriamo il baule Oh Money Troviamo anche sempre i money Troviamo molti money Ok Vi ho trovato un bel po' di cose Un bel po' di cose Ora nell'armeria Se non mi sbaglio possiamo farci Solo questi possiamo farci Perché se guardiamo bene Potremmo anche farci Forse no Questi ci vogliono No questo non l'equipaggio Perché non lo voglio Io mi faccio questo Perché questo noi lo usiamo Ed è molto meglio Farselo Allora Ora sono rimasti pochi Quindi fa niente ragazzi Ora mi compro delle munizioni Per questo Ok Munizioni Mi ho preso un po' troppe Però ok Livello 13 Partiamo Inizia ragazzi Vediamo un po' Inizia male Inizia Ah Oddio Che casino è sto livello Ok mi ha dato una munizione Aiuto Prendi la peccata ok Ma muori Ma muori Ok Altri Oh mio dio Dai ragazzi Siamo quasi a metà Ordata finale Ordata finale ragazzi Ci siamo Ok Ok Ce l'aveviamo fatta Questo livello è stato semplice Semplice Non li ho neanche dovuti usare I I Come si chiamano quei cosi I Gli acchiappasogni Tre diamanti Gli altri 510 Money Ok ragazzi Ci mancano veramente Tre livelli ragazzi Quindi sono tre tentative Perché ragazzi Come vedete Ho tre succhi di frutta Magici Quindi Mi armo E andiamo al prossimo episodio Al prossimo livello Ragazzi Nebbia di guerra Attenzione al mostro della nebbia Uccidilo Per fermare la nebbia Oh my gosh Oh my gosh Ah Muori Ok Per adesso Non ci sono i mostri della nebbia Oh no Appena detto ragazzi Appena detto Ok Sono morti i mostri della nebbia Sì Sono morti i mostri della nebbia Ok Abbiamo tolto la nebbia E adesso ragazzi Se non mi sbaglio Ci da l'achievement Perché C'era un coso Di guerra Nella nebbia Mi pare Oddio Ok Dobbiamo tolto la nebbia Sì Oddio Che casino È Ah Uccidilo tu Pensaci tu Oddio Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo fatta ragazzi Abbiamo anche sbloccato l'achievement L'achievement Del Del coso di natale Meno male Oddio Ci servono Ci servono Tre diamanti Li porto in minecraft E poi vediamo Va bene Allora Vediamo nella ricerca Uh Ok Ci danno 60 Di questi Ora Ci manca solo Dobbiamo solo superare Un modalità sfida Un livello Modalità sfida Vediamo un po' qua Che cosa c'è Posso farmi l'upgrade Ma sinceramente Io non voglio Perché voglio farmi Prima Questa al 4 Questa al 4 Che ne richiede 750 Però io voglio Quindi lo faccio E quindi lo faccio Sono solo 18 col Ma spuzzarove Quindi ci vediamo dopo Ragazzi Di nuovo Modalità Sopravvivenza Uh Ce la possiamo fare Dai 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 Che sono ben messo qua Stavolta C'è tanta gente Eeeh Aiuto Ok Ma quanta gente c'è Ma non sono passati neanche A me Ti sa Adia Io odio Perché non morite male Ok Ci stiamo riuscendo ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Vai così Ok Allora 814 money bonus Tocchiamo per svelare le ricompense 498 di oro 526 di oro 1550 di oro 1550 di oro Totalmente Allora ragazzi Ultimo livello Per oggi Ok Ok Allora ragazzi Inizio all'ultimo livello Del mondo Grazie lampada Che tu ci aiuti Che tu ci aiuti nei cieli Allora ok Ci stiamo riuscendo per ora Uccidiamo con la scarpa E facciamola finita Ok Uccidiamo con i due scimmia Quanti sono Ok Ok Per ora Oh mio dio Aiuto Rilancio tutto Ah Fortissimo Ma è fortissimo Ma è fortissimo Stavo con questa Non gli fa quasi niente Dai sta morendo Muori Sì È morto È morto Che sei stava Non mi manda a uccidermi Sì E vai Cos'è questo Abbiamo sbloccato Barricate Danneggia i nemici Col contatto Forte Oddio Ce l'abbiamo fatta Ma cosa Solo 800 monete Ma cosa Mi prendi in giro Vabbè Tocca per sbrollare Le tue ricompense 500 di oro 75 di oro 75 di robe E tre gemme Oddio Oddio Ce l'abbiamo fatta ragazzi Abbiamo sbloccato Il nuovo mondo Vediamo un po' Questo che cosa fa Che cos'è che fa praticamente Danneggia i nemici Col contatto E potrei farmelo anche già al 2 Però Non ho abbastanza soldi Quindi ragazzi Se vi è piaciuto Lasciate un like Qua sotto Commentate Iscrivetevi E noi Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi